Respirare l'ansia e un po' di pressione negativa secondo me non è quello di cui questa squadra ha bisogno Così si esprimeva il direttore sportivo della Sidiga Savellino Nicola Alberani nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia del primo match di Europe Cup L'ansia, la pressione, il pareggio di mercoledì sera l'insolita parità che si è presentata al quarantesimo della gara contro lo Smokiminsk e con molta probabilità l'ottimo riflesso che emerge dal campo per l'ultima fase negativa vissuta dalla Scandone Una squadra prima in classifica al termine del girone di andata capace di battere le dirette antagoniste Milano e Venezia su tutte capace di stendere per due volte la favorita del girone in Europa il Besiktas può all'improvviso scivolare in paure e pressioni immotivate per la semplice volontà di ottenere più di ogni altra cosa un trofeo qualcosa di tangibile uscendo sconfitta nella gara spartiacque in campo continentale e in una sfida cruciale nel percorso nazionale nel quarto di Coppa Italia contro Cremona Di venerdì mattina nel classico appuntamento con la stampa al pala del Mauro il coach della Scandone Stefano Sacripanti va giù diretto e alla vigila di Avelino Brindisi, la gara che dai bianco-vierdi sarà giocata all'insegna delle volontà di riscatto il tecnico Canturino ha ripalesato le difficoltà emotive vissute dal suo roster puntualizzando sugli aspetti emersi dalla conferenza stampa di Alberani il dirigente forrivese non ha mai parlato di Avelino come invivibile aveva semplicemente sottolineato qualche episodio da stigmatizzare e con protagonisti alcuni componenti della squadra e il coach Lo stesso nostro allenatore, secondo me in tre anni, ha fatto il lavoro da numero uno e il fatto che la mattina quando vada a far colazione sia preso a mare parole mi sembra una roba che non è da Avelino, non è da noi, ma non è da Scandone e soprattutto non ci aiuta Sacripanti ha ringraziato il DS per la difesa di tutte le componenti ma ha di fatto cancellato tutte le polemiche sul rapporto tra la squadra e l'ambiente esterno Io volevo ringraziare Nicola Alberani per il suo ottimo tentativo e volontà di togliere pressione a una squadra per le parole che ha detto lunedì, martedì, non so quando fosse, non ricordo bene io non ho assistito alla conferenza e non l'ho neanche rivista però sono sorti poi mille commenti di tutti i tipi ecco, io credo che il tentativo di Nicola forse lui ha sbagliato le parole o forse qualcuno le ha strumentalizzate non lo so, ma mi interessa anche poco il Dio Nicola è quello che toglie un po' pressione a una squadra che sta giocando oggettivamente con un po' di ansia e quindi c'era un tentativo di alleggerire l'ambiente che ha provato a farlo in tutti i modi quindi da buon direttore sportivo ha provato a dare una mano alla squadra però ci trarre a precisare delle cose che noi, tutti quanti noi da Avellino stiamo benissimo Avellino è una città che ci ha accolto, ci ha amato, ci ama ci accoglie tuttora si sta in maniera veramente piacevole a vivere in questa comunità abbiamo tifoserie una prima di tutti che sono gli original fans e poi tutta la curva ma poi anche molto di tutto il resto del palazzo che ci sostiene, ci accoglie, ci segue ovunque andiamo e quindi noi siamo assolutamente contenti di Avellino perché poi, ripeto, probabilmente voi ne sapete molto più di me perché vivete su internet è quasi quasi uscita che Avellino sia invivibile ci mancherebbe altro Avellino ci ha accolto con amore dalla proprietà ai tifosi, alla gente io vado in giro la foto che offre il caffè che io non bevo ecco io come un poppante bevo ancora Coca-Cola o le cose dolci perché sono rimasto quando ero ragazzino e quindi sotto questo aspetto qui della vivibilità dopo tutto quanto viene ho capito male, un po' strumentalizzato cioè nel senso che va a finire che noi perdiamo o non giochiamo bene perché la gente in giro ci ferma assolutamente, ci mancherebbe altro la gente in giro ci ci conforta dopo la Coppa Italia ci ha dimostrato tutto il proprio dispiacere la propria frustrazione però lo ripeto ci sentiamo amati ci sentiamo coccolati nessun agente esterno quindi a condizionare la squadra se non in minimo senso di delusione che la brutta prestazione e l'addio al sogno Coppa Italia ha regalato alla Scandone in primis e alla città di Avellino Sacripanti puntualizza anche sul grado di impegno del roster e dello staff Siamo professionisti in questo momento io vi assicuro perché fa parte del mio carattere fa parte di come sono io e fa parte di come è fatta questa squadra noi ci sentiamo rappresentare la maglia e i colori al 2000% anzi forse fin troppo e questo forse ogni tanto potrebbe essere anche un aspetto negativo ho uno staff con me compreso che lavora dalla mattina fino alla sera fino a che non non crolliamo da sonno giocatori che vengono la mattina pomeriggio la sera vengono mezz'ora prima c'è una grande amore da parte di tutti quanti per fare il meglio per questa squadra qui va a finire che abbiamo l'alibi che noi giochiamo male o scende qualcosa perché in città in città sta benissimo noi siamo siamo tranquillissimi ci mancherebbe altro è chiaro che tocco il secondo punto questa squadra da quando è iniziata purtroppo purtroppo è sempre stata un po' in emergenza se andiamo a contare le partite che ho giocato con con la formazione credo che non superiamo il 40% delle partite e credo che siamo arrangiati molto bene abbiamo fatto benissimo abbiamo fatto tante cose abbiamo sempre trovato una soluzione a tutto perché abbiamo un roster fatta di persone che che tengono tantissimo a quello che che stanno facendo bravi o meno bravi allenatore competente meno competente però sicuramente ci tengono tantissimo ci teniamo tantissimo e e adesso abbiamo un piccolo problema che adesso siamo realmente in un momento un po' più di emergenza perché non abbiamo Amadin Daie perché dalla finale di Coppa Italia abbiamo fatto uno forse due allenamenti anche con Fesenco abbiamo qualche problema come è normale che succeda in una in una stagione problemi da risolvere nel fisico e nella testa una pesantezza nell'obiettivo con un senso di frustrazione che corre dall'interno la squadra mercoledì non l'ha segnato mai abbiamo fatto pari e ci facciamo il segno della croce abbiamo fatto 2 su 21 da 3 punti di cui uno segnato dalla disperazione agli ultimi 15 secondi se no era 1 su 20 con tiri anche abbastanza buoni o meno buoni comunque insomma nella norma bastava fare il 20% per vincere una partita facile però abbiamo tirato con con un'ansia che che non ci deve appartenere quindi sicuramente ho la responsabilità io credo che sia frutto di quello che dicevo prima cioè di avere forse troppe brave persone nella squadra che vuol dire che ci tengono molto che la frustrazione dalla partita persa in coppa non è solo dei tifosi ma in primis è nostra ogni tanto sarebbe anche buono avere un po' di Menefreghisti in squadra un po' più leggeri invece sono persone perbene persone che l'altro giorno mi ha fermato un tifoso mi diceva insomma lui ha un po' un contatto con Martigliune Martigliune non si può toccare dopo che ha perso una partita o che ha giocato male è vero perché ci tiene perché è una brava persona ogni tanto io sono 18 anni sono campanitore di Serie A ho allenato anche Menefreghisti ogni tanto è molto più facile perché entrano in campo vincono perdono mezz'ora dopo si ride si scherza e tutto passa invece quelli che dopo vanno a casa e io sono uno di quelli perché ho fatto quello perché ho fatto quest'altro ma come mai ma perché ma per come poi arrivi il giorno dopo che sei più stanco del giorno prima invece sono moltissimi che è la loro forza che hanno la capacità di rialzerare in due secondi e questa squadra non è tanto capace il coach ha anche presentato la discussione interna la stessa squadra si interroga sul perché del mancato risultato e sembra condizionarsi da sola in una fase dedicata ci troviamo davanti un mese difficilissimo a partita con Brindisi andiamo in Russia abbiamo Varese abbiamo Milano abbiamo Venezia è un momento difficile bene pazienza lo affrontiamo al meglio come possiamo con grande ardore con grande intensità con grande volontà sperando di fare il meglio possibile ne abbiamo parlato ieri ne abbiamo fatto un'ora di riunione perché la mattina io sono venuto qui come sempre con i miei assistenti e non ho potuto lavorare con loro perché senza appuntamento c'era la processione dei giocatori a volermi parlare giravano intorno coach ma vieni là va facciano due parole e tutto quanto era più o meno la stessa cosa per fortuna che ieri cioè mercoledì abbiamo abbiamo giocato così male abbiamo pareggiato giocando così male perché tu cosa dici non sapeva bene dire cosa loro cosa volevano dirmi fondamentalmente poi è uscito che siamo tutti un po' dispiaciuti frustrati proprio ci sentiamo quasi in colpa per non aver raggiunto il risultato e io ascoltati abbiamo parlato abbiamo parlato poi con tutta la squadra c'è grandissima voglia di fare bene forse ce n'è troppa in un momento un po' difficile dove io non posso tenerli tre ore a fare l'allenamento perché sennò giochiamo in quattro perché abbiamo gli acciacchi fisici perché abbiamo una problematica con Fesenco perché perché però ci siamo quindi adesso arriva un momento difficile c'è grande volontà da parte di tutti la proprietà comunque c'è sempre vicina nel senso che ci dà tutto il loro rapporto su qualsiasi ruolo giocatore allenatore di tutti i modi e credo che la risposta di mercoledì del pubblico sia stata una grande risposta cioè nel senso che c'era poca gente forse a livello numerica però a un certo punto abbiamo fatto quattro minuti in cui se ci toglievano il canestro ci mettevano un palco dove c'era un cantante che si esibiva noi andavamo uguali a passarci la palla perché tanto non guardavamo nessuno il canestro talmente avevamo l'ansia di tirare e questo è stato un bene perché perché se ne sono accorti anche loro perché poi quando lo dico io sì va bene però sì va bene però invece se ne sono accorti loro e ne abbiamo parlato ed ecco all'orizzonte un mese dall'alto coefficiente di difficoltà in cui Avellino non potrà farsi trovare impreparata e in cui la scandone non potrà permettersi pressioni lo stesso coach si chiama dentro sicuramente sta anche a me togliere un po' di pressione però sta un po' a tutti noi io sono sempre dell'idea che bene o male per quasi tutta l'annata è venuta fuori tutte le volte che vinciamo sono bravi giocatori quando perdiamo il coglione dell'allenatore io penso invece che sia un insieme di tutti noi cioè penso che sia un merto di tutti noi un demerto di tutti noi quando le cose vanno bene o vanno male e su questo credo che ci sia una buona responsabilizzazione da parte di tutta la squadra domenica abbiamo Brindisi è una partita durissima oggi abbiamo un allenamento domani ne abbiamo un altro abbiamo solo due allenamenti vediamo quanto FES riuscirà a stare con noi oggi proverò a far fare un po' di allenamento anche alla VAL perché riuscirà un po' a muoversi perlomeno sui sovrannumeri domani rientrerà e piano piano stiamo cercando di fare questo rinserimento è una partita importante qualcuno diceva che è quasi un derby del sud ma io credo che non sia tanto un derby nel senso che non credo che sia venga vissuto come derby penso che sia una partita molto importante per i nostri punti purtroppo abbiamo non abbiamo preso i due punti di Cantù con una partita quasi già vinta e questo ci può trapesare molto soprattutto per la mesata che ci viene davanti è un momento in cui dobbiamo stringere i denti lo affrontiamo io credo che lo supereremo per essere poi pronti anche fisicamente con il ritorno poi di Amadì con la VAL quindi durante la stagione ci sono momenti belli momenti un po' brutti adesso è un momento un po' più difficile è banale dirlo ma stiamo insieme come siamo stati insieme la partita di mercoledì col pubblico quando siamo andati meno 11 ci ha comunque incitato e ci ha comunque aiutato e piano piano io credo che questa squadra possa togliersi ancora parecchie soddisfazioni il dubbio fese in coresta la Siligas punta all'inserimento di Laval nei prossimi giorni ma con un profilo basso che può tornare forse utile in questo momento della stagione dopo le polemiche che hanno visto il coach della Scandone protagonista di un diverbio con l'arbitro Tolga Sain nella riunione tecnica post Coppa Italia io sulle aspettative è un anno che dico che secondo me sono delle aspettative esagerate su questa squadra perché il concetto era che la sconfitta non è mai contemplata e su questo io lo ribadisco ancora quindi non credo di essere non coerente mi si può dire tutto tranne che io non sia coerente io non credo assolutamente di non essere coerente poi se da qui dobbiamo trovare un alibi che noi quando perdiamo le partite è per colpa di quello che stiamo ad Avellino secondo me come ho detto all'inizio è un buon tentativo di Nicola Alberani per toglierci dalla pressione ma è una cosa che io assolutamente non condivido tra le righe io ho aggredito con le mani a collo Sain e per poco prendo sei mesi di squadrifico della procura federale tra le righe mi sembra che ci bisognerebbe anche avere un po' di tatto in quello che si dice perché tra le righe tra le righe c'è una cosa è se o non è perché secondo me poi si gioca anche con la carriera della gente e la carriera delle persone e bisognerebbe avere un po' di tatto io non ho aperto la bocca io non ho aperto la bocca dopo quello che è successo ho passato quattro giornate al telefono in maniera e ho fatto la figura in tutta Italia di essere stato il lanciatore del lanciafiamme con gli arbitri e non è non è proprio così ma secondo me bisognerebbe dire le cose come sono perché si dice che si mormora che Alberani ha detto che non mi risulta io sono venuto qua a dire secondo me Alberani ha provato a togliere pressione dicendo dell'esterno io vi dico che noi dell'esterno stiamo benissimo più chiaro di così mi sembra di essere molto coerente adesso è un momento un po' di difficoltà di un'emergenza un po' maggiore se ci danno una mano ancora di più siamo ancora più contenti ma è una roba nostra perché siamo dei professionisti e ad Avellino stiamo bene tutte le polemiche sul rapporto con la città volano via si conferma l'intreccio positivo con l'ambiente come nei precedenti 19 mesi di gestione noi ad Avellino stiamo benissimo i tuoi cicatri stanno benissimo anzi io credo che i giocatori come ho detto prima e mi sembra di essere stato molto chiaro io credo che i giocatori siano come tutti noi esageratamente frustrati per non poter dare una gioia vera di quello che sta impressioni date io l'unica cosa di cui però questo mi dovete dare atto che lo dico da un'aspettativa sempre stata con un'asticella molto 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 alta se il primo posto non siamo stati capaci a gustarcelo tutto ma noi stessi ma questo include me e include la squadra e include tutti quanti mi sembra che tutto il discorso sia stato molto chiaro sotto questo aspetto ci tenevo visto che dopo è uscito che Avellino è una cosa invivibile io ci tenevo a dire l'esatto contrario quel che resta delle conferenze stampa è il richiamo all'unità di intenti per una stagione ancora lunga anche se spesso l'unica via di uscita è il successo panacea di tutti i mali ad ogni latitudine capace di spazzare via tutte le nubi che all'improvviso si sono addensate zona pala del Mauro la prima chance di un sole splendente è domenica nella gara contro Brindisi Grazie a tutti